L'eventuale candidatura a sindaco di Isernia di Michele Iorio che metterebbe d'accordo tutte le anime del centrodestra, sia sincero, lei che cosa ne pensa? Beh se Michele Iorio avesse voglia di candidarsi a sindaco non potrebbe che avere il mio placet, non ci sarebbero motivi perché non si candidi, Michele Iorio ha esperienza politica e da tanti anni in politica per cui oggi potrebbe essere una pedina importante per Isernia, non avrei nulla in contrario anzi. Grazie a tutti.